Bentornati con Luigi's Mansion Allora, in questo episodio dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare Lì sopra Sì, dobbiamo andare sopra E ci vediamo allora sopra Nooo No, vieni da me, vieni da me, no, no, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi Ok A noi due Ah, qua c'è un cuore, mi serviva Il fantasma se n'è andato Oh, se ne scappa L'ingotto Il fantasma è scomparuto Non c'è più Non volevo controllare qua, ma qua Ah, c'era un cuore enorme Qua c'è magari uno speedy ghost Sembra di no Eccoti Yes gooo Oh, inserisucchio Vai Prendiamolo finalmente Era lui? No, ovvio che no Vai congelati Perfetto Fantastico Meraviglioso Dammi il cuore Anche se non mi serve No, questo mi pre... Non m'ha preso, non m'ha preso, non m'ha preso Quanti fantasmi ci sono? Ci sono tre fantasmi Allora Ho attivato l'ultraestinto o qualcosa del genere Ah, quello più fastidioso L'abbiamo preso Adesso quelli con le ban... La sto ospirando Come li prendo a questi? Vai, te 8 punti vita Muori Anche se sei già morto Sei un fantasma Poi Te 40 punti vita Fatti risucchiare al primo tentativo Così la finiamo qua E pace all'anima nostra Invece no Non ci creda Ok, ce l'abbiamo fatta Chiave Ahah E vabbè E qua Bumba No Dov'è? E qua E qui Let's go Sono il diabolo No Non andare Non andare di là Non andare Cioè vai No, no Pensavo funzionasse Il ragionamento inverso Allora adesso Ok Si è andato di qua Perfetto No, no, no E fatti catturare Yes Perfetto Possiamo andare Lì avanti Insomma Chissà cosa ci attende E siamo sul terrazzo Il rado a scova Blu sta impazzendo Molto interessante E lì Tu non mi analizzi Andiamo piano 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 Punta di piedi Oh Non mi fa Alza Mangola visua Ah, era con questo Che si alzava No, pure con questo Allora No, non mi analizza Questi qua stanno a fare Giravolta Quel fifone Che è arrivato fino a qua Brr Che paura che ci fa Mi sa che ora tocca a noi Bene Boh Assumiamo la nostra vera forma Ma prima Che ne dite Spaventarlo un po' Le strade sono diventate Di ghiaccio Ed ecco voi Il boss Bulosso Che è soltanto Un bue enorme Allora Ok Deve venire di qua No Il mio elemento ghiaccio Adesso Col ghiaccio No Sul bulosso Non mi interessa Se faccio argento O bronzo Non so Uh Ma che A dove vai Il bu Vai Oh Ma l'hai trapassato Non vale Vieni di qua Perfetto Allora Un bulosso Non è così difficile Congelatevi Treni Congelati Bene Vai Sì ma questi qua Vanno dall'altra parte Dell'universo Vai Adesso è minuscolo È quasi quanto Un bu Normale Vai Vini Ci riesci Sì No Sono velocissimi Guarda dove vanno Yes No Potrebbero vi ricreate Vai Vieni Vieni Qua Che facciamo Pure il giro tondo Stiamo facendo Ah ma io posso tipo Risucchiarlo Più verso di qua Vieni Sgo L'ho preso L'ho preso Adesso ne rimangono solo due E non possono ricrearsi Ho pensato fosse il fanta Cioè il bu Ma quanta danno mi ha fatto Qua ha preso bronzo Se si ricrea Sì ho fatto Schifo Dai vieni Puoi venire qua Grazie Uno E due Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Yes L'ho fatto proprio Cacare E Dun 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 Luigi Luigi mi senti? Oh che sollievo Quella nebbia bianca Aveva interrotto il segnale Sembra che tu abbia fatto Di avere un buon lavoro Perché non torri al laboratorio? Possiamo cenare insieme E dare un'occhiata A quei ritratti di fantasmi Preparano una cerietta Secondo un'antica ricetta Di famiglia Pesce a letto Sottaceto Con gusci di noce marinati Che bontà Buon fatto Luigi Senta forte Sembra di te Che il tuo aspiramonese Avrei i fantasmi Che ne dici Di mettere I miei buoni vecchi Ritrificatori Spettri Ed ecco il Ritrificatore Di spettri Di nuovo all'opera Beh stavolta ne abbiamo presi un bel po' I fantasmi sono invisibili Allora dobbiamo Renderli visibili E subito trasformano I miei bellissimi Ritratti di fantasmi Bronzo L'avevo già detto Fa pure schifo Il ritratto Oro Per madame Clarvista Oro Per Il palestrato Oro Per Stecca secca Oro Per Quella cicciona Oro Per Non mi ricordo il nome Oro Per I due gemelli Bene Siamo riusciti a trasformare Quei fantasmi Ritratti Grazie al tuo aiuto Luigi Ah Che bello aver fatto Tutti Oro E poi Bronzo Cioè ma A volte mi facevano tre A volte mi facevano venti Venti Talla è se ci fantasmi Ma se schifiamo tutto 51 milioni Dobbiamo arrivare Tipo a 140 milioni E noi ci vediamo Ad un prossimo episodio Perché Buros Ma Ha sfinito Non me lo ricordavo neanche a questo punto Del gioco Ciao Zoom